salve a tutti bene oggi andiamo a parlare di una lavastoviglie ad incasso sotto top è una lavastoviglie particolare perché come vedete è una lavastoviglie ad incasso ma non è che si può mettere la porta come vediamo di solito e adesso vi faccio vedere come la lavastoviglie è messa dentro con una porta davanti uguale alla cucina poi si apre e la porta è fissata al nostro alla porta della lavastoviglie in modo che si chiama a scomparsa totale perché non si vede più niente come se non ci fosse mentre in questa lavastoviglie che ha scomparsa parziale perché vedete che il display resta è già tutto in acciaio si può adeguare tranquillamente sia ai mobili moderni anche ai mobili antichi da notare made in italy con motore inverter il motore inverter aiuta a essere più silenzioso e aiuta ad avere efficienze più alte più altri vantaggi che da come vediamo è tutta in acciaio in acciaio anti impronta è un acciaio bellissimo e vederla dal vivo è un'altra cosa come vedrete anche all'interno l'acciaio non è il classico acciaio un po opaco è veramente un acciaio spaventoso dalla lucentezza che ha adesso vediamo il terzo cestello per metterle posate è un terzo cestello flessibile perché lo possiamo organizzare come vogliamo vedete posso spostare se ho dei bicchieri sotto dei calici che mi danno fastidio posso spostare il cestello a sinistra l'altro a metà ritirarlo su posso prenderlo portarmelo via per svuotare le stoviglie posso rimetterlo ha la flessibilità veramente ai massimi livelli posso anche toglierlo per mettere dei calici alti dei piatti più alti delle pentole quello che voglio poi abbiamo il secondo cestello anche qui classico secondo cestello e poi andiamo a vedere com'è fatta la girandola che c'è sotto vedete com'è fatta è planetaria quindi lei gira su se stessa più gira intorno in questo modo non lascia mai dei punti vuoti e ogni giro che fa è sempre diverso dagli altri essendo che gira in questo senso qua e questo porta una pulizia veramente molto alta queste plastiche che vedete qui sono dei spacca goccia praticamente la goccia arriva lì scivola giù non resta sulle stoviglie che può lasciare quelle macchie la gialle si bianche che vedete di solito di calcare o di detersivo che magari si è accumulato la quindi l'acqua scivola via e non abbiamo più quel problema di macchie come vedete l'acciaio vedete che bello lucido che è bellissimo in più il secondo cestello lo si può regolare tranquillamente in altezza e adesso andiamo a vedere come fare qui abbiamo sempre il porta i porta bicchieri porta calici ecco vedete per tirarlo su basta premere quella leva lì tac si abbassa a tre regolazioni uno quello di mezzo e quella più alta le plastiche che vedete qui servono per non rovinare i calici e per appoggiarli anche questo fate tutte per l'anti goccia morbide da non rovinare i calici veramente pensata in tutti i sistemi è una lavastoviglie particolare perché per essere una lavastoviglie ad incasso mi resta comunque la mia il mio spazio vedete made in italy quindi lo scrivono dappertutto questa storia del made in italy ha uno spessore veramente elevato anche di vedete di acciaio nel fianco qui c'è il riassunto di tutti i programmi e altra particolarità vedete l'apertura questa non è come alcune marche che quando non finito tocca aprono la porta questa è motorizzata quindi non fa lo scatto ma si apre pian pianino e posso anche andare a regolarla se voglio che si apre oppure no veramente un bel prodotto e soprattutto furba perché questa lavastoviglie qua essendo scomparsa parziale posso vedere display quanto manca mentre sulla mia che è scomparsa totale non posso mai vedere quanto manca perché il display non si vede fuori veramente un ottimo prodotto secondo me andate a vederla dal vivo perché merita soprattutto il colore degli acciai e davanti torno a ripetere un acciaio anti impronta bene se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al mio canale che è gratuito non costa niente e attivate tasto le notifiche grazie a tutti e arrivederci